Caro figlio, questa non è una mappa del tesoro. I piccoli rettangolini colorati mostrano come certi uomini si sono appropriati di una grande e sconosciuta foresta. Durante i tuoi primi anni di vita sono stato quasi sempre lontano da casa, inseguendo un'idea. Ora voglio raccontarti la storia di questo rettangolino giallo. Cota! Cosa? 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 Il bosco è un gruppo di animali e di vegetali. Incluso con l'uomo come componente, con l'uomo pristino. Perché c'è una interdependenza. Chi viene prima, l'uomo o il vegetale? Il vegetale. Quindi, se lo preserva il bosco, lo preserva a nessuno. No, a nessuno. E socialisti. Anche te.